siamo al passo del cavallino della fobia e adesso andremo a parlarvi della strada cavallino passo di san rocco la strada inizia da qui e le peculiarità di questa strada cos'era che si è costruita durante la grande guerra e la congiunzione tra la zona di eno la zona di treviso la zona del manos e noi che proseguiamo verso il la zona di diosecco e adesso andiamo a spiegarvi questa strada tutte le sue opere andando verso la strada che porta verso il passo del san rocco in questo preciso punto se vedete qua dove c'era questo slargo e sopra qua c'erano le baracche dove vi erano posizionati gli operaide che lavoravano su questa strada del genio del primo genio della sesta armata della settima armata scusate la prima armata perché dopo è diventata settima armata e qua c'erano le due baraccamenti che erano qua e là arrivati nel parcheggio adesso è un parcheggio una volta non era un parcheggio parcheggio costruito quando si è fatto il santuario la cosa che saltava all'occhio da questa strada qua c'erano due cose importanti la prima era questa che è la mulattiera militare che saliva da clare dove ho raccontato dei cannoni di clare qui all'inizio c'era un baraccamento che serviva per il genio per controllare tutta questa strada là davanti a noi adesso dove c'è il bosco là c'era l'altra mulattiera che saliva e andava a cima rio secco dove abbiamo postato il video e poi c'era una cosa importante qua posizionata adesso vi porto a vedere insieme all'ala che ci guida nel vediamo se ci porta nel posto giusto adesso qua dove c'era un piazzolo per il 75 che serviva per fare per completare la cortina che vi ho parlato dal monte manos a loere di idro e qui c'era un appostamento di un cannone esattamente qua dove c'era questa pianta se vedete qua che serviva per fare la cortina da in cima al monte manos arrivando sul lago di idro e per poter difendere tutta la zona qua davanti a noi e questo è un altro piccolo scorcio della strada qua davanti a noi c'è la strada su custodi militari che adesso andremo a raccontarvi cosa c'era la santella e proseguiamo il nostro viaggio in questa strada del rio secco proseguendo sulla nostra strada militare della fobia che resta lì sopra cavallino fobia san rocco c'è questa costruzione qua che era una vecchia calchiera infatti questa calchiera qua è venuta utilizzata è stata utilizzata dall'esercito italiano vedete le dimensioni molto grandi è stata utilizzata dall'esercito italiano per poter praticamente cuocere le rocce qua dentro e poter trasportare per costruire tutte le strade militari nonché le mulettine della zona sta recuperata una ventina di anni fa dal comune di capovalle adesso diciamo è una condizione un po' imboscata però anche questa qua era una parte della costruzione perché serviva per la costruzione di questa strada che stiamo raccontandovi oggi e se venite verso il rio secco ricordatevi vedere questa calchiera non è più segnalata però è ancora in ottime condizioni se vi fate vedere all'interno vicino alla calchiera che ho fatto vedere partiva questa mulettiera che scendeva fino a Claire dove ho fatto vedere l'altra volta che è usata dai militari per spostarsi da questa strada all'appostamento di Claire che vi ho raccontato più volte nel vecchio filmato dell'artiglieria di Claire stiamo proseguendo sulla nostra bellissima strada militare della rio secco e qui arriviamo in un punto là c'è il santuario e qui troviamo la santella che vi racconteremo la leggenda del santuario di rio secco ma a noi viene importante per un'altra cosa qua dietro come vedete qua adesso in questo in questo ripiano qua che vedete qui sopra c'erano i baraccamenti di soldati che presidiavano questa strada ed erano esattamente in questa posizione qua sopra da ricordare anche sempre qui ci proseguiva sempre qua sopra qui e dove hanno tentato di costruire la prima la prima diciamo santuario di rio secco e noi adesso andiamo a fare un pezzettino di rock and roll diciamo per per scovare un'altra cosa militare si sale da qua e qui sotto volevo farvi vedere nel vecchio filmato Claire dove c'erano le artiglierie di Claire qua sotto qui vedete in questo slargo proseguiva la nostra mulattiera militare costruita dall'esercito italiano perché ci portava praticamente a vedere adesso vi faccio vedere in mezzo a questo bosco vedete qua è ancora tutta bella accennata naturalmente tutta imboscata ci portava qua avanti adesso vi faccio vedere qui avanti la avanti sempre su questa mulattiera proseguiva 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 adesso tenuta un po male però fondamentalmente ancora accessibile a tutti e si arrivava qua qui così che eravamo sopra la nostra strada ma era posizionata qua perché qui mi era posizionato adesso vi faccio vedere bene guardate qua vedete questa c'era la ricerbetta e qui c'era il pezzo da 75 di artiglieria che puntava verso il tono inizio dalla Val del Chiese là davanti e qua c'era il suo stavo qua vedete ancora lo slargo li finiva e qua c'era un pezzo di artiglieria che faccia parte dalla cortina che dal monte Manos scendeva all'uere di idro e qua davanti sparava giusta qui c'è ancora la sua ricerbetta si vede ancora bene e torniamo indietro proseguendo su nostra strada cominciamo a trovare questi piccoli conicoli uno qua uno qua e uno più avanti questi tre conicoli cos'erano non erano delle diciamo nicchie dove stavano i militari ma erano delle nicchie dove sia qua sopra che sia sotto la strada qua sotto erano imbottite di esplosivo e serviva in caso di ritirata dell'esercito italiano detto anche dei fornelli di mina serviva per saltare questo pezzo di strada infatti se vedete questo pezzo di strada è l'unico pezzo che è costruito a strapiombo tutti gli altri pezzi di strada sono stati costruiti tagliati nella roccia ma senza strapiombo qui c'era il più strapiombo di tutti infatti qua se la strada veniva da là in fondo a qua veniva a mancare tutta la strada praticamente crollava e questa strada qua diventava impraticabile e queste qua erano i fori di mina i fornelli di mina fatti su questa strada per poter far esplodere la strada qui davanti a noi vediamo uno scorso del lago d'idro naturalmente camisino e tutte le altre montagne che abbiamo raccontato durante la grande guerra mentre sulla nostra strada dopo aver visto il foro di mina dopo aver visto l'appostamento dei mitragliatori di cannoni l'esercito nel 1918 creò un altro appostamento di difesa che restava qua sopra se voi vedete sopra la strada questo pianoro qua così qui è stato edibito con la sua rampa che saliva dalla vecchia diciamo dalla cava qua saliva lì e lì c'era l'ultimo appostamento di artiglieria messo qua nel 1918 qua sopra su nostra bellissima strada che da cavallino arrivava a passo San Rocco poi c'è l'ultimo pezzo che faremo vedere che adesso non è più è un pezzo di strada perché non è la vecchia strada che sarà a Capovalle ma c'è un pezzo di strada che vi farò vedere a sfaldare sterrato che adesso è stata un po' anche di moscia saluto a tutti ciao alla prossima questo invece è un pezzo della strada che non c'è più cioè nel senso dal bivio di San Rocco fino al bivio per Rio Secco che faremo in un prossimo video ciao